Un dramma quello di questa strada provinciale, la Polizzi-Caltavuturo in Contrada Torre, ecco le nostre immagini parlano da sé. Sì, oggi qui a Polizzi con il Comitato per la valorizzazione del territorio dell'Imera Settentrionale per porre in luce una serie di cose che non vanno bene. È inutile parlare del sostegno agli agricoltori, dello sviluppo del turismo, se intanto non garantiamo la possibilità di un minimo di manutenzione delle strade. Se non garantiamo la possibilità a questi operatori, a questi imprenditori, a questi agricoltori di potersi irrecare presso le loro aziende, presso le loro dimore. I dati dello Svimez raccontano davvero un'Italia a due velocità, con un sud che profonda sempre più nell'isolamento. Noi siamo qui oggi per ribellarci a questo sistema e la popolazione farà tutto quello che è nelle loro possibilità per uscire da questa condizione e io insieme a loro porterò avanti questa battaglia perché le strade, le infrastrutture e la condizione del mezzogiorno possano ritornare centrali nell'agenda politica nazionale. Non c'è alcun tipo di segnaletica che lo certifichi, ma di fatto è impercorribile? Sì, questa strada praticamente non si fa manutenzione ormai da parecchi anni. È un dramma soprattutto per le 15 aziende che ci sono in questo territorio che purtroppo hanno difficoltà, soprattutto nel periodo invernale, a raggiungere le aziende per poter lavorare, per poter portare avanti la propria azienda agricola e zona tecnica. Questo comitato serve per portare all'attenzione di chi di dovere, degli organi intanto della provincia, perché la strada è provinciale, del comune, ma anche della regione, della protezione civile. Poi andremo a vedere assieme a chi sollecitare per cercare di dare, quando meno, una percorribilità a questa strada. Sentiamo proprio la testimonianza di un'azienda. Noi siamo abbandonati a noi stessi, abbiamo investito nel territorio regionale e tutto, ma lo Stato ci sta abbandonando. E continuando così saremo costretti a chiudere la mia azienda familiare, ma anche tutte le altre qui presenti. Non è una situazione tollerabile, siamo abbandonati, anche in inverno le aziende erano isolate, 15 giorni gli animali coperti nelle nevi. È una situazione molto critica. L'unico intervento che ha fatto quest'anno la provincia, ha fatto di mettere alcune segnaletiche, limite di velocità, ma con quale cosa? Se la strada qua non è percorribile, come ne hanno messo tutte queste segnaletiche? Sì, addirittura qui nel bel mezzo di una strada ci ritroviamo a strapiombo. Pensate, gli allevatori che portano al pafcolo il loro bestiame, è capitato addirittura che un animale sia caduto sotto.